Ho preso l'elmetto! Allora, dammelo subito! Avevi ragione, la fantasia è molto simpatica. Ciao ragazzi, perché siete così alti? Un attimo. Devo sbrigarmi, o i geni di quel tonto mi infetteranno. Mi hai causato troppi problemi. Sidney, stai indietro! Sì, il mio corpo! Un malfunzionamento! Prendi bene, ripariamoci! Oh no, di nuovo! Calma, scarafaggio! Ti consiglio di tenere le mani bene in alto e dimmi come faccia a tornare normale! Cosa? Non devi ascoltarlo! Sei tu che ci hai fatto finire nei guai! Forte! Sarebbe bello se quei tre tonti si eliminassero a vicenda! Chiamata in arrivo. Kevin, dove sei? Abbiamo del lavoro da fare. Ehi, faccia di latta! Adesso sono impegnato con la mia famiglia. Che è successo? Famiglia? Divertente! Tu non hai nessuno! Senza di me sei solo, ricordi? Ora smettila di bighellonare e torna a fare rapporto! Non ho nessuno! Magari è per questo che è avvenuto fin qui! Per sentirsi parte di una famiglia! Quindi volevate conquistare il mondo rimpicciolendo le cose? Avete il cervello bacato! Proprio così, Sidney! Kevin, se rivuoi il tuo corpo, ti basta colpirmi con quel... Ok! Alla grande! Che rambella presa, Sidney! Veniamo all'elmetto! Dici questo? Ora te l'aggiustatino! Volete che vi aggiusti qualcos'altro? Bene, dove è andato, Kevin? Kevin! Vieni fuori, amico! Tigre ti lascerà l'ultimo uovo ripieno! Tigre è un po' triste per quel ragazzo! Oh, ma che sto dicendo? Ben, ti prego, dimmi che hai ancora l'elmo! Oh, Max, è stato bello rivedervi! Spero torniate l'anno prossimo! Verremo al 100%! Guida con prudenza! Oh, ci ha mancato poco! Vero? Partiamo prima che ci scoprano! Gwen, metti l'indirizzo di Zio Phil, mi sistemerà lui! Dietro il tutto ok, Ben? Sì, per fortuna nonno scogliattolo adora le uova ripiene! Ben, ti prego, 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 ben, ti prego Grazie a tutti